Credo che sia giunto il tempo che mi unisca anch'io al coro di coloro che esaltano il PD come figlio o nipote dell'Ulivo, a coloro che dicono che l'Ulivo avrebbe dato vita ad una nuova organizzazione politica, che però non è esattamente il PD, anzi che il PD distorce l'ispirazione dell'Ulivo. Credo che sbaglino tutti e due. L'Ulivo fu in effetti una grande operazione politica che mise insieme in una coalizione, sottolinea una coalizione di partiti molto diversi fra di loro, senza nessun tentativo di armonizzare le loro culture, peraltro già abbastanza claudicanti, ma soprattutto che riuscì a mobilitare una parte consistente di associazioni, di società civile, come si dice. Al parito democratico non è riuscito nulla di tutto questo. Quando nasce è una fusione fredda, come hanno detto tutti, fra la Margherita e i democratici di sinistra, entrambi peraltro già in declino e che non avevano più nessuna cultura politica sulla quale fare affidamento. Dove sono finite le culture vere, cattolica democratica, la cultura ambientalista, quel che rimaneva della cultura progressista del parito comunista? E soprattutto perché nessuno ha mai preso in considerazione, utilizzato e valorizzato anche la cultura socialista, che è stata una vera cultura riformista. E allora il parito democratico non ha messo insieme nessuna cultura politica e l'Ulivo non si è trasmesso nel parito democratico perché non c'è questa grande mobilizzazione di società a sostenere il parito democratico. L'Ulivo perde, forse anche per i difetti di leadership di Prodi, il parito democratico non riesce ad emergere e anzi, quello che alla fine fa è esalta in maniera forse esagerata la leadership di Renzi, però con le leadership non si può fare grande strada, la strada la si fa con culture, con una cultura politica non democratica perché questo deve essere il fondamento di tutto, ma progressista. Questa cultura manca e non potrà venire fuori se non da una grande capacità di coloro che attornino nel parito democratico di riuscire a riprodurre o forse a riformulare una cultura politica progressista in questo paese. Fino ad allora è inutile che parliamo di antenati e di successori, negli uni negli altri ci servono più.